un'attività 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 fine del riscaldamento si aprono le danze vabbè vabbè percorso addio ma mettere al sicuro più denaro del nemico non so uno prende l'elicottero uno l'ha quale l'elicottero l'elicottero che porta si 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 sta portando un'altra Helicottero localizzato! L'alleato è stato segnalato come bersaglio ricercato! Proteggilo a ogni costo! Eh, peccoddio! Posso salire? Mi cazzo faccio! Eh, anche se posso salire in volo! Andiamo anche io! Soldato nemiche ne arrivo! Tre soldati nemiche ne arrivo! Ah, bellissimo! Sì! E lo sai che faccio? Porta cognitiva! Ah! Eccezionale! Ma si è sfumato in culo! Ma li possiamo inserire 30 nemici! Eh, porca puttana! Infatti! Che cazzo! Dirigerti in questo punto! Sei ritornato al posto di Diego? Scusa, ma che cazzo? Ivan? Ma porca addio! Cosa? Ha preso la porta e... Ha rimandato dove stava prima! Non ci posso credere! Che è sfumato in culo! Che è sfumato in culo! Che è sfumato in culo! Ha preso la porta! Tendendo la porta l'ha riportato qua dove aveva preso la porta! Mam! Stiamo qui! Dove sono i nemichi? Dove sono? Prendo i comandi! Dove sono i nemici? Non lo so, l'ho scelto 3 volte! E invece... E dove? Eccolo uno qua! Ah, qua c'è la porta! Lo ordinate definite! Ho qua! C'è una porta qua eh! Passa qua! Il nemico avvistato! La porta magnifica! C'è una porta qua eh! È bianco! È bianco! È andato qua! Movimento! Qui! Qui c'è una corazza! Ammazzato? Yes! Ci sta un'altra porta! Puoi entrare in quella e in questa che facciamo? Sì! Sì! L'hanno fatto a... È andato nella porta io! C'è Stitch! Oh! Oh! Grado specialista! E' un po' Si è da fuori o la porta? No! Non è tanto se la vuole! Porco Dio! Guarda la caccia di una persona! Ma che caccia di un nemico fisse! Ma non mi ha dato una lira! Anche a me! No! A me! Ho detto il coso fa ma non mi ha dato una lira! A me puolissimo! buono quadra a capo chiediamo ricognizione ricevuto ho avuto ostile in discesa nell'area occhio in alto corretta schierata raggiungete il punto indicato e mettete in attenzione uap avanciato in una via avanzato alleato segnala bersagli e vettori ostile in discesa nell'area occhio in alto c'è il giro Qui Jaguar 3-0, confermato. Torrezza robot distrutta. Caporoso. Contratto completato. Informazioni tattiche ottenute. Sono vicinissimi qui. Attenzione, un membro del team è diventato un bersaglio ricercato. Difendetelo. Guido io. Squadra a capo, chiediamo ricognizione. Qui Jaguar 3-0, confermato. Battugliamento UAV. Attenzione, UAV in rientro forzato per fare rifornimento. Avete evitato l'inseguimento. Ottimo lavoro. Allora, invece vede l'elicattolo. Oh, io sto combattere contro un team... Porco Dio, porco. Sto continuando a chiaccare solo le mer**e. testa non si tenesse accorto di quanti soldi c'hola attenzione uomini subito il fatto per fare il mio nome io non c'è la merda Guido io. Ah, sono mal grigliato. Visuale sull'approvvigionamento. Sto attendo il panico. Soldato nemico in arrivo. Muuuhi. F*** il tuo. Abbiamo fatto un milione. Tutto il denaro è stato... Sì. F*** Dio! Sta dietro! Sta dietro! Sta dietro! Mamma mia. Piazzatemi dopo. ma che facciamo dei gotteri per ottenere finisco io non mangio fai più indico un elicottero contratto completato ricercato di peso l'importante è che non ci sovrano i secondi sì spara lo Oh soldato nemico in arrivo oh, dietro una, voglio... una bomba! oh, ma dietro il sistema! perché devo rimanere il senso di rimanere? cecchiri, non lo so mi cecchina, no, mi cecchina mi hanno colpito! oh, fuck! verso su destra siiii! obiettivo principale completato, bel lavoro! oh, Giada! 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 la morose oh, 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 faboloso, faboloso e chi è questo faboloso Giada? iiii cacca1 cacca1 la Giada fabolosa cacca1 lo 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 l'almago